Buonasera a tutti ragazzi e benvenuto in questo nuovo video bellissimo e caldissimo vlog ragazzi il vlog inizia dopo questo video mi volevo sentendo informare che dopo questo vlog mi pentino malamente ma spero che il vlog vi piaccia perchè ci ho avuto davvero tanto impegno per crearlo e ci ha voluto due giorni di tempo per finire tutto l'altro ed edito in questa roba qua perchè ragazzi l'avevo registrato il video era lungo 13 minuti ma poi la maggior parte era una merda per cui ragazzi secondo me è stato fatto troppo il video perchè il video è adesso di 3 minuti però cioè breve cioè non volevo fare tipo 10 minuti perchè sapete un po' ci ho messo anche di musica abbassato i volumi ho fatto tantissimi errori ma sbagliato si impara come si dice quindi vabbè non parlo tanto e vi faccio vedere i miei video bella è la cina aperto ci vediamo alla guida cominciamo subito prima di andare in macchina bisogna infilare il freno a mano oh è qua mi c'è una freno a mano questo è il freno a mano quindi ha passato la macchina sta andando indietro così a caso freno accendo la macchina sta accendendo sta accendendo sta accendendo questa ragazzi porta sulla macchina questa per andare in avanti questa per andare indietro e siamo andati indietro ora ragazzi mi farò vedere un bel ciretto come si vede andiamo avanti ok dai andiamo facendo il ciretto allora che dirvi al momento non hai la patente e quindi non la posso buttare fuori da casa quindi ho cominciato un po' brevamente a guidarla vedendo come potrebbe andare e ragazzi mi piace che questo sia il primissimo vlog che finalmente fa non so che non so che non sto andando si gira e adesso non c'è la faffazzura ragazza allora ciao ciao la guida sarebbe finita se volete a un altro video tipo così con l'automobile praticamente ho la mica l'automobile che al momento non posso guidarla perché non ho la patente se chi volesse sapere che l'automobile è chi volesse sapere che l'automobile è per la vostra informazione è un tasso non so che modello è diretti quindi la paga non c'hanno anche la paga non c'hanno anche quindi ragazzi se volete un video di altro tipo di questo genere pieno video di questo genere con l'auto oppure un altro tipo di vlog se vi è piaciuta mettete like e commentate e grazie per il supporto bella a tutti ciao